Allora, Renato, rileggiamo insieme la gran domanda e sveliamone il risultato. Allora, il Tesoro cerca di vendere titoli italiani ai cinesi. Per l'Italia è meglio che i cinesi investano in BTP o che investano Tremonti. Allora, secondo il 95% delle persone che hanno votato, è meglio che investano Tremonti. Ma forse, Giulio, stia tranquillo, secondo me è solo che il paese è un po' teso, però diareta attraversi delle strisce pedonali. Guardando a destra e a sinistra e più a destra, che da là arriva molto spesso il nemico.